Grazie, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo indovina i peluche. Allora, siamo pronti? Sì! Pronti? Sì! Ok, Mattia inizi tu. È morbido e duro? È morbido. È lungo e corto? Corto. Corto. Secondo te... Aghi-waghi! Aghi-waghi nero! Adesso giratevi. Giratevi di là. Che io nascondo un altro peluche. L'ho nascosto adesso, Alfonso. Voglio girare io? Sì, ma non guardare nella scatola. Ha molte punte. Mhm. Mi sembra che è il peluche raptor peluche. No. Ma non dovevi tirarlo fuori. Dovevi prima indovinare. Ma come l'hai comprato? Che cos'è? E mostreremo frate arancione. E' arancione. Ma pure il blu e verde. Ah, non ce l'avevo il blu e verde. Solo questo. Giratevi di nuovo. Io non mi metto già blu. Ok, senza sbirciare. Ok, senza sbirciare. Sì. Giratevi. Allora, adesso è il turno di Mattia. Mattia, non sbirciare. Non sbirciare. Sei pronto? Sì. Che cosa può essere secondo te? Morbido? Morbido? Eh, eh, eh. Non guardare. È morto. Non si guarda. Mamma, ma non c'è solo una corona però. Va bene. Allora, è morbido? Sì. È blu. È blu? Sì. Ok, poi? Cosa pensi che sia? C'è una corona gialla. Una corona gialla? Ma non lo dovevi tirare. Così vedi che cosa è. Va bene. Tira, 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 tira. È blu. 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 Dai, dai. Come se... Ma l'avete detto che non ce ne avevano gli altri. Allora, chi è? Chi è? Questa? Mostra lo blu. Vedevo Frenzo. Adesso, giratevi. Questo è il turno di Alfonso. Posso sbirciarmi? Sì, certo. Senza sbirciare. È grandissimo. È grande. Mi sa che ne abbiamo solo uno con la testa gigante. È Sonic Nero. Bravissimo. Mattia, allora girati. Guarda un giardino. Nascondiamo. Pronti? Sì. Gira. Indovina, indovinello. C'è un cappello. C'è un cappello che già lui ha sbricciato. No. No, non è sbricciato? È grande, è piccolo. Non tirarlo già fuori. Grande. Grande. Mario. Mario. Sì. Quattro. Allora, adesso è il turno di Alfonso. Girati. E Alfonso, girati. Senza sbirciare. Cosa potrebbe essere? Morbido? Ha questi... Strappi? Strappi. Che secondo te cosa può essere? Aghi, waghi, arcobaleno. E va bene, ragazzi. Per questo video è tutto. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguiteci anche su Instagram e TikTok. Ciao! Ciao!